L'ennesimo Palermo in versione schiacciasassi al Renzo Barbera. Ancora una volta dopo il deludente pareggio esterno di Pagani, davanti ai tifosi di Viale del Fante si verifica la metamorfosi rosa-nero. Una squadra, quella di Baldini, sostituito da Nardini in panchina a causa del Covid, che nella gara di recupero lascia al Taranto soltanto le briciole e nemmeno tante. 5-2 il risultato finale, frutto di una prestazione quasi impeccabile condita da un gioco fluido, tante occasioni da rete e da uno stratosferico Bruno Ori, che con la doppietta raggiunge quota 21 gol. Un traguardo che lo porta in testa alla classifica dei marcatori del campionato. Anche Luperini ha esultato con una doppietta. Unico grande rammarico quello legato al pubblico. Per il match del Barbera si è infatti registrato il record negativo di presenze sugli spalti, poco più di 4.000 persone. La peggiore performance dell'anno dopo quella in occasione della sfida fra Palermo e Vibonese, con 4.200 biglietti venduti. Contro il Taranto i rosa-nero hanno subito messo le cose in chiaro. Già al terzo minuto Luperini ha aperto le marcature, seguito poi dall'incontenibile Bruno Ori, che ha fatto doppietta prima del riposo. 3-0 all'intervallo, poi nella ripresa dopo il gol dell'ex Davide Di Gennaro, in rosa-nero con Gennaro Gattuso in panchina, è quello di Luperini che ha fatto bis. Allo scadere Soleri e Zullo hanno fissato lo scorro sul 5-2. Dal Palermo si attende adesso una pronta conferma, già domenica sempre al Barbera contro il Picerno.